Il risultato è di 8.40 Ma quando è in alto questo fenomeno finisce subito quella storia perchè c'è qualcuno che non vede i caglioni da 6 anni è stato lasciato libero di farlo e continuano a farlo finché o non succede la catastrofe oppure vengono a mancare i soldi in modo definitivo in Italia quando non c'è più di vaga oltre saranno queste strumenti di regione legati all'uso del computer ora tutto qua terremoto in vista comunque da qualche parte questa mattina sono stato svegliato penso di dormire un po' di più io invece alle 7 o poco prima sono stato svegliato da un motore nauseabondo è durato 15 secondi non vorrei che fosse questi fenomeni qui che stavo vedendo adesso qualche far uscita di gas è qui intorno a casa mia alla provincia vorrei dire se è tollerabile questo rumore di macchine tutto il giorno se alcuni froci che comandano se lo sopporterebbero l'attiprogione di autorità italiane a cominciare da quelle locali a quelle in alto se se lo sopporterebbero tutto casa loro non c'è più